buongiorno a tutti oggi la canzone che andrò a fare è una canzone che ho scritta io cerca un anno fa quando sai quando ti trovi fra te e te ti senti di voler esprimere qualcosa però non ce la fai ad esternarlo e non facendo non facendola appunto non potendola esternarla la imprimi e la cerchi di mostrare o in una canzone nel caso mio o in un disegno e poi ognuno di noi ha la sua interpretazione di esprimere le proprie sensazioni questo è quella che io ho cercato di così di esprimere che cominciava e finiva persa poco così spero vi piaccia non te ne andare titolata ho cercato di guardare il mio passato ho cercato di sfiorare i miei pensieri quando la mattina mi specchi e mi preparo non sono stato pronto per il mio presente non sono stato attento a reggerti la mano proprio quello che volevo per di tutto ho scappato per timore del servo uomo un po' mi sono fermato e ho riflettuto e non ho capito quello che ho detto quello che non è esterno quello che non è esterno quello che non l'ho detto e non faccio se non mi ricordo forse non mi ricordo forse non lo voglio ho cercato di guardarmi dentro ma non ce l'ho fatto mi ricordo forse non mi ricordo forse non siano stato terroristi la tua Eccola qua, spero vi sia piaciuta la canzone e niente, visualizzate in tanti, iscrivetevi e se vi piace il canale appunto commentate pure ciò che pensate, ciò che vorrete dire. Ciao da tutti, da me, Romulo, Eugenio e Emanuele. Ciao!